...davanti a Sicuro e Busbetti e nella Giavellotto da Padovan al suo quinto lancio, ancora qui, con un primato italiano che l'ha preso da 1900 per me. Potremmo stare mettendo a piede lungo, come sa che è? Vai! Attenzione, ancora lungo per la Padovan! Un'altra lancio ancora per la neoprivatista italiana curata da 548 giorni arrivata prima.